Ciao, sono Michelangelo Gentile, vengo dal liceo per Michele di Ciriè e oggi siamo qui per discutere del problema dei trasporti, per cercare di renderli più sostenibili a livello ecologico e la nostra idea per migliorarli si è concentrata appunto su un'applicazione che nel momento in cui si vanno ad acquistare biglietti per trasporti pubblici quali metro, treni o pullman questa applicazione scanalizzando appunto un QR code sui biglietti va a scalare degli sconti sui negozi locali della tua città per appunto cercare di aiutare anche questi appunto negozi che con il progredire delle varie aziende di consegna direttamente a casa vanno un po' a penalizzarsi, pertanto appunto quest'app dopo un totale di appunto biglietti scanalizzati e appena questi sconti vengono appunto letti, registrati, si va appunto a ottenere un altro premio successivo quale un viaggio magari pagato sempre con gli stessi trasporti pubblici, è nulla questo. Grazie